Oggi abbiamo con noi Don Riccardo, che è parroco di Villadogna e di quant'altro, e di tante parrocchie. Torno quindi un attimino su qualche tema, perché volevo un po' anche un suo parere. Partendo dal fatto, non so se l'avete visto anche voi, proprio su Antenna 2, c'è quella rubrica simpatica che si chiama Il Sasso dello Stagno, dove appunto l'intervistatore prende un tema e poi va in un paese, incontra gente così, chiede parere, cosa ne pensano e così via. Ovviamente dopo che sui giornali è uscita, in modo un pochettino improprio, almeno nella presentazione, quello che il Papa aveva detto a riguardo del diaconato delle donne, cosa ha interessato tutti. I giornali si sono precipitati, ne hanno parlato a modo loro, e allora ecco che Il Sasso dello Stagno si è interessato di questo argomento. È interessante ascoltare un pochettino i pareri, anche perché viene fuori, onestamente diciamolo, da una parte per carità, il libero parere delle persone, i desideri anche, eccetera, che le persone hanno riguardo a temi anche di vita di chiesa, ma poi escono anche delle trovate come quella che voleva fare un po' la moderna e far capire che in Svizzera sono più moderni che in Italia, e ha detto che, ma certo, le donne diacono come? In Svizzera ci sono addirittura già le pretesse, ci sono già le donne preti, e lo diceva anche convinta, è l'intervistatore che diceva, no ma guardi che forse magari i protestanti, no no, proprio nella Chiesa Cattolica, vabbè, chissà dove l'ha incontrato e cosa ha visto questa qua. Comunque è interessante queste battute, un po' ci danno, permettetemi ne, anche l'idea che c'è in giro anche un pizzico, diciamo così, per rispetto, di ignoranza sulle cose della fede, sulle cose della religione. Difatti sono come quelli che vanno a certi programmi delle grandi televisioni, programmi di gioco, dove si vince anche dei buoni euro, e sulle domande di religione perdono tutto regolarmente. Questo la dice lunga sul fatto che ci siamo diventati esperti di tante cose e rischiamo un pochettino di perdere. La donna fa parte anche del nostro mondo, anche uno che non fosse uomo o donna di fede. Il conoscere un pochettino le cose della religione cattolica cristiana in genere, direi che ci aiuta un po' a leggere la nostra storia, la nostra cultura, l'arte, eccetera. Però chiudo questo capitoletto, però è interessante quella faccenda lì del Sassone Rostagno. Però adesso c'è il Don Riccardo, e volevo un momentino chiedere a lui che impressione ha avuto di questa dichiarazione del Papa e anche di quello che ne è conseguito sui giornali e nel pensiero della gente, e qual è un pochettino il suo parere. Credo che siamo d'accordo tutti nel dire che purtroppo i mezzi di comunicazione non hanno fatto un ottimo servizio da questo punto di vista, proprio per il gran clamore magari anche sul niente che è nato. Io ho sentito al giornale radio della mattina successiva questo intervento del Papa, dove il Papa aveva detto, rispondendo, che bisognava forse istruire una fase di studio per vedere anche, perché qualcuno dice, torniamo alle diaconesse come era nei primi secoli dell'era cristiana. Se c'erano chi erano, che compiti avevano? Il Papa ha detto, dobbiamo studiarci sopra. E già i giornalisti dicevano, se arriveranno le donne diacono, finalmente potranno battezzare e sposare. Sappiamo bene che chiunque, addirittura anche un non cristiano, se intende fare ciò che intende la Chiesa, basta che prenda un po' di acqua e dica, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo, il battesimo non solo è valido, ma è anche lecito. E quando due si sposano, il prete, e lì celebra la sua messa, ascolta come i testimoni, ma sono i due ministri, i due sposi, che sono ministri anche del matrimonio. Quindi questo per dire quanta disinformazione c'è. A me sembra un po' peregrina questa trovata delle diaconesse, per il semplice fatto che abbiamo ancora l'idea, secondo me, troppo clericale, che nella Chiesa per contare qualcosa bisogna essere preti, come se i laici, chi vive il suo battesimo in maniera bella, mettendosi a servizio, pur con compiti diversi, non possa costruire il suo cammino di santità, perché l'abbiamo detto più volte, cos'è che conta per un cristiano? Per un cristiano è fare bene la sua vita e arrivare alla fine della sua esperienza terrena, ad arrivare in paradiso, questo è quello che conta. Le strade per arrivarci poi sono molteplici, non è che bisogna essere ordinati, o essere preti o vescovi o diaconi per contare qualche cosa. E mi sembra proprio che se c'è un ambito dove anche in tempi molto negativi con le donne forse c'era uno spazio di realizzazione grande, erano gli ordini religiosi femminili, dove sono emerse anche grandissime personalità dal punto di vista cristiano ma anche umano. Quindi mi sembra proprio che impostare così la situazione sia proprio qualche cosa di poco rispettoso anche nei confronti della storia della fede cristiana. Sì, direi che è una forma di femminismo religioso un pochettino fuori tempo, sembrava quasi una volta negli anni 70-80, in tempi in cui anche la donna giustamente voleva un pochettino evidenziare la sua presenza, il fatto della stessa dignità, ci mancherebbe con l'uomo il rispetto dovuto e così via, si finiva poi col pensare che le donne dovevano fare gli stessi mestieri degli uomini, per cui se una donna non andava in miniera come ci vanno gli uomini quasi quasi contava di meno. È chiaro che la diversità dei servizi e dei compiti non dice minor dignità. E questo appunto per un cristiano in nome del battesimo, che ci fa tutti uguali davanti a Dio e tutti di ugualissima dignità. Se poi guardiamo, oltre al fatto vocazionale che viene dal battesimo, anche il fatto che nelle nostre parrocchie il 70-80% dei buoni servizi che vengono vissuti in tutti i campi sono proprio svolti dalle donne, per cui se vogliamo forse sarà perché sono più disponibili, sarà stato perché un tempo magari avevano anche un po' più di opportunità e così via, erano più casalinghe, gli uomini più al lavoro esterno eccetera, però direi c'è da evidenziare. Forse magari vanno tenute un po' più in considerazione, ma per carità la Chiesa potremmo dire che sta in piedi proprio per tanti aspetti sulla servizio e sulla disponibilità delle donne. Ma certo, ma credo davvero che non abbia senso star qui a dire bisogna rivendicare i diritti di qua o far valere di più. Credo che la Chiesa, a livello anche di istituzione, possiamo dire Chiesa Universale, ha dato dei segni importanti da questo punto di vista. sapere che ci sono alcune università pontifice di teologia dove il rettore non è un prete, ma è una donna teologa. Ci sono davvero degli ambiti dove effettivamente emerge la ricchezza di ciascuno, ma credo che emerga poi alla fine la ricchezza di ogni persona in quanto tale, che sia uomo, che sia donna. Se uno è battezzato, è battezzato, vive bene la sua fede, allora non ha neanche delle rivendicazioni di genere che mi sembra proprio forse debbano appartenere a un tempo che grazie a Dio è anche stato superato. Bene, diaconesse, quindi tutto da rivedere o da ripensare in modo un pochettino più piano e al di là appunto di certe informazioni gridate che non giovano a capire bene di che cosa si parla. L'altro motivo per cui voglio un pochettino pizzicare il Don Riccardo è sulla esortazione del Papa Francesco a riguardo del matrimonio, della famiglia, eccetera. Quel documento Amoris Laetitia che tanti avranno almeno visto in copertina, che tanti magari sono andati un po' ad aprire, tutti o almeno quelli che l'hanno avuto in mano sono andati subito dritti al capitolo settimo dove si parla appunto delle famiglie ferite perché qui sembra essere ancora una volta forse grazie a certi mezzi di comunicazione forse l'unica cosa di cui si è interessato il Papa e si sono interessati i sinodi sulla famiglia che lui ha voluto. È chiaro che questo documento ha prima sei capitoli che parlano della dignità del matrimonio, della bellezza della famiglia, di come nella Chiesa è bene aiutare le persone e accompagnarle in questa vocazione, eccetera, eccetera. Quindi le tematiche sono tantissime. Però Don Riccardo, quello di cui tutti un po' si sono interessati o di rifo di raf è il fatto di come porsi di fronte o dentro le situazioni di persone che vedono o hanno visto il loro matrimonio non solo ferito ma addirittura drammaticamente chiuso. Ecco, come l'hai vista tu questa presentazione ma soprattutto che cosa ti sembra il Papa inviti a fare preti, laici, vescovi, eccetera, in ordine a queste situazioni familiari? Ma sono d'accordo con te quando dici che forse anche qui c'è stato proprio un pochino un focalizzare solo alcune particolari di quella lettera comunque così ampia, di quel documento, non una lettera così ampia, così ricca, quasi andando sempre a vedere se alla fine uno che ha visto naufragare il suo matrimonio e che si è risposato o comunque che ha avviato una nuova convivenza o comunque che vive in una convivenza, quindi in una situazione matrimoniale tra virgolette irregolare per quanto riguarda quella che è la strada maestra che il Vangelo propone se si possa o meno ricevere la soluzione e fare la comunione. Giustamente magari perdendo di vista un pochino il discorso molto più ampio. Ecco, da un certo punto di vista c'è la reazione di qualcuno che dice no, la norma è quella, la norma è sensata e credo che comunque la norma che c'era e c'è tuttora perché non è che questo documento mette in discussione quella che è sempre stata la regola maestra della Chiesa, che credo avesse nelle intenzioni di questa norma qui anche potremmo dire una dimensione quasi pedagogica, quasi a dire attenzione a fare questo passo con troppa facilità perché guarda che anche dal punto di vista della tua fede ci sono poi dopo anche delle situazioni che si vengono a creare che saranno magari anche di sofferenza, ti peseranno anche per la tua vita così cristiana. Ecco, quindi mi sembra che si veda sempre questa cosa qui come quasi un punire, no? Dire tu sei fuori, tu non sei più nella strada che la Chiesa indica. Ecco, a me piace sempre quando, in questi anni, no? Come prete, magari accompagnando un po' anche genitori di bambini che fanno la prima comunione piuttosto che la cresima, che magari sono un po' in queste situazioni, esprimermi con un'immagine, no? E dire, immagina che la vita cristiana sia andare da una città da Bergamo a Milano. Potremmo dire, la strada maestra che il Vangelo ti indica è l'autostrada, comoda, bella, precisa. Se tu però, la tua macchina è un cinquantino, è un motorino che non puoi comunque andare sull'autostrada prenderai la statale, andrai un po' per sentieri, sarà un po' più faticoso il cammino ma l'importante è che tu arrivi a Milano. Ecco, capisci bene Don Leone questa immagine che cosa dice, no? Che dobbiamo vedere più le possibilità che ci sono in ogni situazione di vita che non magari quello che ti è precluso. Bello però che il Papa abbia detto, ecco, si possa valutare caso per caso che ciascun, ecco, non in maniera superficiale, in maniera banale ma che ciascuno possa, accompagnato in maniera seria da qualcuno che può fare questa che può essere un po' un accompagnatore, possa vagliare un po' nella sua vita e magari trovare delle opportunità dove effettivamente ci si possa anche avvicinare alla riconciliazione e anche al sacramento dell'eucarestia. Finisco, può succedere anche, metti che uno ha ucciso una persona, si pente, fa un serio cammino non è che il suo pentimento fa tornare in vita quella persona che ormai è morta e è stata uccisa e continua il suo cammino nell'eternità. Questo per dire che non sempre il tuo pentimento ti può portare a ristabilire quella situazione che magari il tuo peccato ha incrinato. Certo che proprio in questi tempi qui di comunioni, di cresime, di battesimi, tempo pasquale che abbiamo vissuto soprattutto, ma poi anche durante il periodo qui adesso di giugno, si fanno avanti persone, chiedono per esempio ma c'è quello zio per dire che fa da riferimento bello nella vita a questo nipote e vorrebbe sceglierlo come padrino, quell'altro che chiede di fare il testimone ma quello è già un'altra cosa per dire al matrimonio, quella persona che vorrebbe un pochettino entrare anche a svolgere un servizio nella comunità perché in fondo però ha alle spalle una situazione di matrimonio appunto dove c'è separazione, dove c'è addirittura divorzio e così via. Cioè ci si trova un po' a volte in difficoltà perché da una parte non si vuole dare l'impressione di scavalcare quelle che sono le valenze forti del matrimonio cristiano, dall'altra si vuole tener conto anche appunto delle persone e delle situazioni, non per fare una morale della situazione ma per essere attenti comunque perché le persone sono lì in carne ed ossa, non sono sui libri semplicemente. Ecco credo che ci siamo un po' trovati tutti a vivere qualche motivo, qualche momento non facile proprio anche in queste scelte che le famiglie intendono fare in questi momenti sacramentali. Certo, è sempre imbarazzante quando dice a qualcuno non hai le condizioni che la Chiesa ti chiede per poter fare il padrino o la madrina. Ecco io non drammatizzerei eccessivamente su queste cose nel senso che il padrino o il madrino è vero che noi preti diciamo è importante, è bello, è significativo, però tante volte si limita poi a una presenza che accompagna durante il sacramento e la cosa finisce lì e quindi questo non è neanche che dica la ricchezza, la bellezza dell'essere padrino o dell'essere madrina. Ecco io dico soprattutto laddove magari una famiglia per il suo vissuto non ha neanche una grossa consapevolezza di appartenere alla fede cristiana. È bello che a fianco ci sia qualcuno che può essere vicino, non solo la persona che ha le carte in regola ma non sai chi sia, che possa dire con la forza della testimonianza quanto è bello essere amati e perdonati dal Signore. Penso che questo sia quello che vale la pena mettere in luce. Cioè il padrino è uno che a fianco dei genitori, della tua famiglia, che ha il compito di condividere la fede con te. Ecco si mette a fianco con discrezione come fratello maggiore perché tu possa vivere bene la fede. Quindi forse prima che guardare se tutte le carte sono in regola, vedere che dimensione di appartenenza la fede ha questa persona, che gioia di essere testimone del Vangelo a questa persona. Questa forse è la cosa migliore che può diventare anche più fruttuosa in un cammino di accompagnamento alla fede. Ecco persone ferite nella vita di matrimonio eccetera. Mi sembra un po' diverso invece, anche se per carità tutte le situazioni che qui vanno capite e personalizzate, quelli che non scelgono di celebrare il matrimonio sacramento, quindi la convivenza cosiddetta, e poi chiedono di far da padrini al sacramento del battesimo o della cresima, del nipote eccetera eccetera. Qui mi pare invece che la contraddizione sia un pochettino più evidente. Cioè mi sembrerebbe più grave questa posizione, nel senso che dice come? Tu non celebri il sacramento per te e lo puoi celebrare per carità, sei nella condizione di celebrarlo e presumi di andare a fare il padrino e l'accompagnatore nella fede per il sacramento di un altro. Qui mi pare che la faccenda sia un pochettino più contraddittoria e quindi bisognerebbe forse essere un tantino più fermi in queste scelte qui. Certo. In questo caso mi permetterei di dire, beh, come stai vivendo una situazione di attesa verso il matrimonio, presupponendo che un po' di fede c'è, altrimenti non ti porresti neanche l'opportunità di poter essere padrino piuttosto che madrina, allora forse è meglio che vivi la dimensione di attesa anche verso questo compito perché la tua condotta contraddirrebbe un pochino quello che tu vai a celebrare. Ecco, questo per dire come effettivamente serve guardare con attenzione caso per caso, non per dire amnistia generale, liberi tutti, avanti c'è posto e uno faccia un po' come ha voglia, che sarebbe poco saggio. E d'altra parte per non essere neanche dei farisei che appunto, già diceva il Signore, legavano pesanti fardelli sulle spalle degli altri e poi loro non li toccavano neanche con un dito. E l'accompagnamento, perché uno dei temi interessanti che poi coinvolge le nostre comunità, i percorsi di preparazione al matrimonio, come una comunità è vicina alle giovani coppie, quando per dire hanno anche un figlio, quindi in ordine al battesimo e giù di lì. Probabilmente anche qui dovremmo un pochettino rivisitare, e tanti lo stanno facendo, questi cammini, che una volta erano semplicemente preparazione al matrimonio sacramento, ma se questo matrimonio sacramento non ha il contesto di una fede un pochettino consapevole, per cui tante volte leggendo i titoli di certi percorsi che le parrocchie propongono, mi sembra di leggere cose che andavano bene forse 40 o 50 anni fa. Oggi dobbiamo un tantino rivisitare l'accompagnamento di queste persone, tra l'altro non sempre giovani, spesso a un certo punto già conviventi, a volte addirittura già con figli, quindi cambia la scenografia anche dell'accompagnamento al sacramento del matrimonio. Certo, bella questa idea di accompagnamento, e tornando al discorso iniziale delle dia con esse, no? Ecco, piuttosto che andare a clericalizzare magari un manipolo di donne, che poi avremmo magari delle persone che ti mettono su qualche paramento durante le celebrazioni, ma noi ne abbiamo bisogno di questo. Pensa che è bello se una persona che magari così nel suo cammino di fede si mette a disposizione per accompagnare altri, per condividere certi momenti, per aiutare a camminare, per fare discernimento. Ecco, è bello che questo documento del Papa, no? Appunto dove parla di questo accompagnamento personale, certo fa riferimento ai confessori, a quelli che possono essere i padri spirituali, ma si può essere, benissimo, ogni battezzato che vive la sua fede con attenzione, con sensibilità, con un po' anche di formazione, certo, può pensare di essere un po' un aiuto nel cammino spirituale degli altri. Quindi voglio dire anche queste superiori a cui il Papa ha detto anche di questa opportunità di studio, potrebbero forse trovare anche il loro spazio come formatrici spirituali, come appunto direttrici spirituali. Non vedrei scandaloso questo, anzi potrebbe essere una ricchezza in più, con una sensibilità femminile che appunto a fianco a quella maschile aiuta a camminare in pienezza. No Riccardo, la parola del Papa, soprattutto questo grande documento sulla famiglia, eccetera, nelle nostre comunità come potremmo un pochettino far passare questo messaggio? Perché altrimenti rischia che lo leggono alcuni, resta un pochettino nelle librerie, forse in mano ai preti, se vanno al di là appunto del capitolo VII e riescono a leggerlo tutto, anche i preti stessi, cioè come potremmo un pochettino architettare qualcosa per far arrivare queste notizie un po' a tutti in modo obiettivo e non soltanto attraverso i titoli dei giornali? Ma, quindi Don Leone, penso che potremmo anche inventare tante cose, magari poi vedremmo anche se a livello di Ocesano ci viene data qualche proposta, dagli uffici preposti a tutto questo. Però credo che forse valga la pena che noi preti innanzitutto ci guardiamo con attenzione andando al di là di quel particolare, di quella noticina appunto che è stata la strada che ha dato il via un po' a tutte queste chiacchiere tante volte che sono state fatte. Ma penso che d'altra parte la cosa migliore sia che poi dopo ogni prete, ogni catechista, nel dialogo personale con le persone possa aiutare a maturare. Benissimo, magari ogni tanto si potrà anche con una predicazione domenicale o magari con una catechesi rivolta agli adulti dedicata a questo, però ci rendiamo conto che queste cose alcune volte raggiungono solo quelli che hanno già il palato un pochino più fine e che quindi tutto sommato sono già anche formati. Credo che sfruttare invece quell'occasione che dicevi, i sacramenti dei figli, il battesimo, l'occasione dell'essere padrino, quegli incontri che fai prima del matrimonio, anche solo possa essere l'occasione per mettere davanti una nuova prospettiva, che non è poi nuova perché la prospettiva del Vangelo è sempre quella, però una prospettiva un pochino meno manichiera di quella che i giornali tante volte ti presentano. Bene, alcune considerazioni, Don Riccardo, saggio, puntuale, molto concreto, è un parroco di quelli veramente forbidabili, non per niente, poi è di Clusone oltretutto, poi è stato curato ad Alzano, quindi è stato nel mio vicariato, l'abbiamo cucinato un pochettino bene, eccetera, vedete che si esprime bene. Dobbiamo chiudere perché il tempo se n'è andato, dovremmo parlare di un'altra faccenda ma magari lo facciamo la prossima volta. Grazie Don Riccardo, grazie a voi che ci avete seguito, come sempre l'augurio di una buona domenica. Grazie a voi, grazie a voi.